Salve umani! In questa rubrica vorrei condividere con voi tutte quelle piccole cose che mi capita di scoprire e che mi migliorano leggermente l'esistenza, che siano droghe, alcool, droghe, i videogiochi, alcool, droghe, serie tv, alcool, droghe, i videogiochi, serie tv, alcool, droghe, e voglio dare la home a lei. Ok, per ora mi fermo qui, aspetto le vostre opinioni nei commenti e se avete qualcosa che volete suggerirmi perché pensate che potrebbe piacermi, succhiate con vigore. Two, three, four!